Qui vi presentiamo le 5 migliori braccialetti da sopravvivenza. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. The Friendly Svede Braccialetto di sopravvivenza in peracordo con pietra focaia. È una fascia del braccio forte, larga e anche spessa aggiunta realizzata con paracord di qualità superiore da 227 kg. È eccellente per gli individui con una circonferenza del polso tra 17,8 e 22,8 cm. La lunghezza complessiva del paracord smontato è di circa 4,8 metri. Grazie all'accendino per situazioni di emergenza incluso nella fascia del braccio, questo prodotto sta per un vero pacchetto di sopravvivenza pronto all'usura 2. Passando al numero 4. The Camping Trail Set Granata Paracord e Braccialetto Paracord. È un vero e proprio set di sopravvivenza composto da una fascia da braccio oltre che esplosivo, adatto a coloro che praticano la pesca. Contiene infatti circa 6,4 metri di paracord 550 con 7 fili capacità 250 kg. Due derive, due ganci da pesca, cuscinetto con alcol, lenza, esca, serratura e canna, bisturi, due pesi, due perni, ago, spilli di sicurezza e filo leggero, più due ganci in acciaio inossidabile più sicuri e più forti dei moschetto per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. The Friendly Svede Braccialetto di sopravvivenza Trilobite in Paracord Extra Robusto. Questa fascia per braccio è realizzata in paracord da 227 kg 550 libbre di alta qualità con chiusura flessibile in acciaio inossidabile. Assicura un'eccezionale resilienza con tempo e alte prestazioni anche in caso di problemi di bagnato. Inoltre, ha la capacità di asciugarsi completamente rapidamente e mantenere attiva la sua tonalità. È tessuto a mano ed è disponibile in tre misure S. L per circonferenze del polso di 15-18 cm con 3 metri di paracord quando il braccialetto viene smontato. L per circonferenze del polso di 18-20 cm con 3,5 metri di paracord quando la fascia del braccio viene smontata. X-XL per polsi da 22-24 cm di area con 4 metri di paracord quando smontato. Almostat è top of our list at number 2. Auri verbraccialetto paracord sopravvivenza militare kit. È uno strumento di sopravvivenza 8 in 1 che include bussola, selce, fischietto di emergenza, termostato, corda, luce LED, multi utensile, lente. La fascia del braccio paracord si è appropriata per maschi, donne, ragazze, bambini, dato che può essere cambiata da 20,5 cm a 24 cm. La bussola fornisce un'indicazione rapida e precisa. Il fischietto sviluppa suoni forti di circa 100 dB grado. Il paracord militare a 7 capelli può essere esteso fino a 3,2 metri di dimensione. Il piano è composto da due braccialetti. E infine il numero 1 della nostra lista. Con questo braccialetto di sopravvivenza 5 in 1 sei sempre pronto ad affrontare qualsiasi tipo di circostanza. Puoi produrre trappole con corda paracord, riparare in sicurezza le tue cose, accendere un fuoco per prepararti e riscaldarti, scoprire le istruzioni ideali con la bussola e anche chiamare interesse con il fischio forte. Piccolo e anche compatto, è pieno di tutto il necessario per la vita all'aria aperta. Allo stesso modo puoi usarlo ogni giorno. Il piano include due fasce di braccio e un portachiavi paraco. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più, iscriviti al nostro canale.